Allora, Anna Pettinelli ha deciso di eliminare Inder, quest'ultimo sicuramente aveva trasgredito le rigole imposte dalla produzione molto meno di Flazza, eppure io a lei ho semplicemente sospeso la maglia. Inder invece è fuori, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha una storia a sé. Quando ho deciso di iniziare questa esperienza di amici, ho pensato che avrei potuto dare ai ragazzi qualcosa di me, come persona e come professionista, aiutarli a comprendere l'importanza del lavoro, continuo e infaticabile, fargli capire la bellezza di questa professione, anche i sacrifici che questa stessa richiede. Penso che il senso del nostro ruolo all'interno del programma sia questo, non siamo giudici, in televisione essere giudici implacabili è facile e forse più divertente per il pubblico a casa. Essere un insegnante è molto più complesso.